direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 31 dicembre saranno assegnati 200 premi garantiti da 20 mila euro ciascuno di super natale e ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot 339 milioni 69 mila 85 euro il più alto mai raggiunto nella storia del super enalotto le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 157 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero 37 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere secondo numero estratto è il numero 30 terzo numero estratto è il numero 15 pronti per il quarto numero quarto numero estratto è il numero 9 e adesso scopriamo il quinto numero che appletta le grandi vincite quinto numero estratto è il numero 44 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la festina vincente sesto numero estratto è il numero 72 dopo questi numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numero della festina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 75 controlliamo insieme la festina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 37 30 15 9 44 72 il numero jolly e il numero 75 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite supera una lotta fino a 100 volte premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno lottando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 21 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 157 con la sestina vincente in ordine crescente 9 15 30 37 44 72 numero jolly 75 superstar 21 l'estrazione di oggi sabato 31 dicembre termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 339 milioni è stato centrato da qualche fortunato giocatore la commissione di controllo sta effettuando anche le procedure di individuazione dei 200 codici alfanumerici di supernatale entro le ore 030 saranno disponibili su www.superanalotto.it tanta felicità a tutti i fortunati vincitori ben ritrovati poco fa abbiamo estratti i numeri vincenti del concorso numero 157 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del superanalotto assegna 990.873 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 339 milioni di euro sarà stato centrato il 6 questa sera il 6 di superanalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 340 milioni e 700 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 19 e vincono 22.490 euro ciascuno i 4 sono 1524 e vincono 283 euro ciascuno i 3 sono 56.382 e vincono 23 euro ciascuno i 2 sono 827.868 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 457.185 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 3 e vincono 28.375 euro ciascuno i 3 stella sono 446 e vincono 2318 euro ciascuno 100 euro vanno i 5.161 due stella 10 euro e 32.412 uno stella e 5 euro ai 67.058 zero stella inoltre 270 vincite da 50 euro ciascuna e 40.632 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Superanalotto l'app è disponibile per tutti i dispositivi per maggiori informazioni consultate il sito superanalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi Superanalotto vi dà appuntamento a martedì 3 gennaio e giocheremo per un jackpot di 340 milioni 700 mila euro per conoscere 200 codici vincenti dell'iniziativa Supernatale andate su www.superanalotto.it i dati saranno disponibili entro le ore 0.30 Superanalotto vi augura un sereno anno nuovo arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti